Ora è movimentata questa mattina a Montesilvano dove è stato individuato ed arrestato un pluri pregiudicato del posto che aveva nella sua auto un vero e proprio arsenale composto da due bombe a mano, due pistole calibro 9.765, un mitra MK russo e varie munizioni. A lui Floriano Ulisse di 65 anni sono giunti dopo una dettagliata attività investigativa i carabinieri di Chieti che stanno indagando su una serie di rapine tra le province di Pescara e Chieti. Loro obiettivo era quello di risalire al fornitore diretto dei malviventi che per non restare sospetti si dotano di armi solo per mettere a segno il colpo. Si sono messi sulle tracce di questo noto pluri pregiudicato e come si suol dire questa mattina hanno fatto bingo perché hanno trovato la panda parcheggiata in via Agostinone proprio vicino alla sua abitazione ma soprattutto tra l'altro vicino quasi di fronte alla caserma dei carabinieri di Montesilvano e hanno trovato appunto questo arsenale. Un fatto importante è che ci siamo resi conto che i fatti reato quelli più gravi, le rapine, le spaccate nelle abitazioni soprattutto nell'arco notturno sono state effettuate mediante l'utilizzo di armi e dovevamo capire queste armi da dove venivano. Avevamo attenzionato questo soggetto al quale ovviamente siamo arrivati dopo come ho già detto un'attenta attività informativa da parte dei comandi arma e delle nostre rete informative e siamo arrivati a questo soggetto con un bel pedigree, con tanti precedenti penali, lo abbiamo attenzionato per parecchi giorni, notte e giorno e stamattina è scattato il blitz. Quando siamo andati a casa lo abbiamo visto abbastanza nervoso, lo abbiamo portato giù nel cortile dove era parcheggiata questa auto che sapevamo fosse in uso all'uomo e nel momento in cui ci siamo avvicinati lui diceva di aver perso le chiavi e di non poterla aprire. ci siamo risicondo anche che la macchina invece da un lato era aperta come a significare di poter permettere a qualcuno di poter accedere per prendere quello che c'era dentro e una volta poi aperto il copano abbiamo scoperto che c'era questo borsone. Le due bombe a mano anche di una certa potenza con quasi 52 grammi di polvere da sparo all'interno sono state fatte brillare in un tratto di spiaggia libera a Montesilvano. Le armi usate nel conflitto dei Balcani e provenienti dall'est Europa sono state inviate ai RIS per i rilievi. È solo parte di questa operazione, cercheremo di andare avanti, di approfondire perché ovviamente anche alla luce del munizionamento ritrovato che non era pertinente alle armi rinvenute è molto probabile che ci siano altre armi in giro.